Oggi vi voglio presentare una motosega molto economica della Stil. Faccio una premessa, il binomio che mi dicono spesso quando i clienti vengono in un negozio e sono molto stupiti dei prezzi che abbiamo, cioè prezzi molto contenuti, molto bassi, una volta c'era questo binomio, Stil è buona ma è cara. E diciamo che in qualche misura era anche vera perché c'era un divario notevole fra i prezzi generalmente in commercio e quelli dei prodotti Stil. è già da diversi anni che la musica è cambiata, Stil si accorta per tempo come funzionava e ha deciso di fare una politica economica diversa e quindi io nel mio negozio non ho avuto bisogno di inserire molti altri marchi perché ho dal prezzo più basso per lo stesso articolo fino al prezzo un po' più alto per esigenze diverse, esigenze più alte. Quindi sostanzialmente voglio dirvi questo, la motoseghina da casa della Stil, l'MS 170 è un prodotto che ha DNA Stil, è fatta molto bene, plastiche ottime, impugnature fatte molto bene, messe in moto che sono sempre pronte, barre e catene fatte da loro sempre con la stessa qualità e quindi pur essendo sulla parte più bassa del livello delle motoseghe, noi siamo in grado di offrire un'ottima motosega che non ha niente a che fare con i prodotti da supermercato e il prezzo. Motosega con barra da 35 cm, doppi dadi di fermo del carter, abbiamo un'ottima impugnatura, abbiamo il sistema di messa in moto tradizionale agevolato, tappi per l'olio di lubrificazione e per il carburante e abbiamo i sistemi antivibranti che sono posizionati in questo punto qui e poi li abbiamo posizionati anche in questo punto qui e possibilità di accedere alla parte motore, svito qui e viene via tutto il carter. Visione del carburante di quanto ce n'è nel serbatoio e visione dell'olio di lubrificazione quanto ce n'è nel serbatoio, per cui considerate questo prodotto come un prodotto da utilizzo da privato e vedrete che non rimanrete delusi, anzi vedrete che quello che è come nomi stil è buono, c'è ancora, è caro, non c'è più. Se avete intenzione di acquistare cliccate nel link in descrizione e a questo punto ciao e buon acquisto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!